Rocco Bardo, è stato produttivo l'incontro avuto col Presidente della Regione, Rosario Crocetta, col quale si è parlato prevalentemente di turismo a Gela? Sicuramente, il Presidente della Regione, la qualità istituzionale, penso che porterà un po' di beneficio nel territorio gelese. Abbiamo parlato sia di turismo su Gela, ma anche abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di opportunità che il territorio gelese, l'Interland di Gela potrebbe avere. Io mi sono fatto carico, assieme al Presidente della Regione, Vittorio Messina, ci siamo fatti carico per coinvolgere anche tutte le altre sigle sindacali e fare alcune richieste alla Regione siciliana. Il Presidente della Regione ci ha fatto molto piacere, ha messo a disposizione tutta la parte tecnica regionale per far sì di creare una serie di incontri per cercare di ottenere qualche obiettivo, il raggiungimento di qualche obiettivo. Quali sono le richieste che voi avete avanzato? Noi abbiamo un litorale di 18 chilometri di spiaggia. Una delle cose che abbiamo detto, ma questo riguarderà tutto l'ambito siciliano, è la possibilità di lavorare tutto l'anno e sfruttare le nostre spiagge. Un'altra cosa che abbiamo chiesto è la possibilità di creare nel sito archeologico, c'è una scuola che la stanno ristrutturando, perché no una parte di quella scuola, visto che pochi bambini ci sono, destinarla al museo e quindi realizzare un museo del mare con tutti i crismi e collegare il Bosco Vittorio con il museo grazie a questa struttura. E queste risposte concrete da parte della Regione quando arriveranno? Quando si potrà realmente parlare di turismo in maniera effettiva? Guarda, noi non abbiamo chiesto una tempistica celere, immediata, abbiamo chiesto semplicemente che i burocrati regionali siano a nostra disposizione per aiutarci a striminzire i tempi, perché quello che oggi l'imprenditoria ha bisogno è di avere tempi certi, quindi noi cercheremo di avere tempi certi grazie alla collaborazione con i burocrati regionali.